Poi tagli a tribunali e magistrati in Piemonte, ecco che arrivano quelli delle agenzie delle entrate. Ne verranno chiuse sei entro maggio da Domodosso, Lanizza, Monferrato, con 220 dipendenti da sistemare. In Piemonte l'agenzia delle entrate ha già fatto le prove generali nei mesi scorsi. Due uffici soppressi a Rivarolo Canavese e a Valenza, 23 dipendenti trasferiti altrove. Ma la botta è in arrivo adesso, delle 36 sedi rimaste, sei verranno chiuse in tempi brevissimi. Santià e Domodossola in marzo, Chieri, Cossato e Bra in aprile, Nizza, Monferrato in maggio. Si tratterà così di trovare una non semplice sistemazione a 220 lavoratori. Per questo è già convocato un incontro con i sindacati mercoledì prossimo a Roma. L'agenzia spiega i tagli con un argomento che non sembra lasciare via d'uscita. Quelle sedi non hanno abbastanza lavoro per giustificarne le spese. In quanto ai cittadini che si vedrebbero privati dei servizi fiscali, l'agenzia si è dichiarata disponibile ad aprire al posto degli uffici chiusi punti di assistenza per alcune pratiche essenziali, ma a condizione che a pagarne l'intero costo siano i comuni. Critici i sindacati. La CISL regionale, per esempio, in una nota scritta segnala che la rinuncia a presidi fiscali indebolisce nelle zone interessate la lotta all'evasione ed esprime il timore che la cura dimagrante non finisca qui. A quanto risulta, altre cinque sedi in Piemonte potrebbero essere chiuse nella seconda metà dell'anno.